A Trani si torna a parlare dei Templari nel convegno che si è tenuto nella sala conferenze di Palazzo San Giorgio. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, astronomia ed archeoastronomia nel segno dei Templari e il titolo suggestivo di questo particolare evento organizzato dal Club Lions Ordinamenta Maris di Trani in collaborazione con il Centro Studi Europeo Pasca. Francesco Rossi. E' sempre affascinante il tema dei Templari, specialmente quando poi lo si coniuga nei luoghi dove sono stati effettivamente. Sì, questa città è particolarmente dotata di chiese, di zone ricche di segni lasciati dai Templari destinati ad essere capiti da chi sarebbe stato un giorno in grado. purtroppo che fa viaggiare molto la fantasia è il fatto che loro avevano l'imposizione del segreto quindi ciascuno ne ricava un po' quello che vuole. C'è anche poi, in queste zone stupende, c'è anche la piaga del localismo dove uno costruisce tutto e di più e anche il contrario. Cosa ha rappresentato per Trani la presenza dei Templari? Beh, intanto la Puglia era la Gerusalemme italiana. I Templari qui avevano un approdo molto importante ma soprattutto, secondo la mia opinione naturalmente, erano riusciti a creare il loro ambiente davvero. Cioè, vicino a questa chiesa templare di Donissanti ci sono tre sinagoghe, la più antica d'Italia. Ci sono altre chiese che sono influenzate da una simbologia tipicamente templare, fossero o non fossero templari. Più, ebbi qui una grande emozione, scrisse anzi un articolo su questo, visitando la chiesa di Donissanti e scoprendo che alcune cose corrispondevano a quello che si diceva o che era stato scritto. Quando visitai questa chiesa, prima cosa, vidi sulla sinistra, arrivando dall'alto, vidi questa lapide con una croce templare patente perfetta e due recangi dei lati. Probabilmente erano quattro, però distrutta, appoggiata sotto. Poi entrando in questa chiesa, anche più antica dei Templari stessi, costruita anche tenendo conto di un solo istizio, a una certa ora di questo giorno entra una luce che colpisce l'immagine, un simbolo che riguarda Iside. Poi dentro scoprì che la chiesa non era solo quello che vedevo, ma era a una parte sotterranea, che spero che un giorno qualcuno si interessi ad aprirla. Fu aperta molto tempo fa, lo seppi, diciamo, per vie traverse, c'è una botola che porta sotto e c'è una stanza grande come tutta la chiesa sopra. La leggenda diceva che i Templari, una volta che erano preparati per la crociata, dentro la chiesa, ordinati, da lì entravano nelle scialuppe, c'era un canale di fianco alla chiesa, che è un vicolo adesso, e arrivavano fino alle navi con l'ordine di non toccare terra durante il viaggio.